Questa puntata è realizzata in collaborazione con Synology. Qualche puntata fa, nella 311, vi ho parlato in modo molto estensivo di molte delle funzionalità dei NAS Synology, dai modelli più basilari a quelli un po' più avanzati, che permettono di fare molte cose oltre al mirror storage di dati. Tra le varie applicazioni che si possono installare sul NAS, ce n'è una davvero interessante, che può semplificarvi la vita e aiutarvi a non perdere una delle cose più importanti che generiamo da qualche decina di anni a questa parte in digitale, i nostri ricordi. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima degli anni 90 fare fotografie era costoso e impegnativo. Si doveva comprare la pellicola, erano 24 o 36 pose, scattarle, portarle dal fotografo e aspettare per vedere se erano venute bene. Si pagava la pellicola, il suo sviluppo e la stampa. Io mi ricordo di un viaggio più o meno nel 2000 per mezza Europa e mi ricordo quanti rullini avevo fatto, quante foto erano venute male. Insomma, una spesa sicuramente non di poco conto. I primi prototipi di macchine fotografiche digitali nacquero a metà degli anni 70, ma il mercato iniziò a vendere macchine digitali per il grande pubblico più o meno a metà fine degli anni 90. Si compra una memory card, si fa la foto, si vede subito e poi la si scarica sul computer e la si può persino elaborare, modificare, eccetera. La grande differenza è che la foto di carta sta lì. La foto digitale è facile da cancellare, perdere, corrompere e sarà perduta per sempre. Quella di carta se si allaga o si incendia è la stessa cosa. L'altro problema è che la foto digitale occupa spazio e più passa il tempo più lo spazio aumenta perché le foto sono sempre di più e le foto sono sempre più grandi. Da qualche parte dovranno pur essere messe e se ne dovrebbe anche fare un bel backup. Delle foto di carta non si può fare un backup in un click, ci avete mai pensato? Nel 2000 venne commercializzato il primo telefono con fotocamera, ovviamente era costosissimo e non alla portata di chiunque. Poi sono arrivati gli smartphone e tutti adesso facciamo decine di foto al giorno, spesso inutili purtroppo, che occupano un sacco di spazio e per le quali di solito ci accorgiamo che avremmo dovuto fare attenzione solo quando le perdiamo per sempre, come quando si rompe il telefono, ce lo rubano o si rompe il disco del computer dove abbiamo l'unica copia male. Le foto perse non si recuperano mai più. Per aiutare gli utenti sono nati i servizi che creano una copia delle foto in cloud in modo automatico così che le fai, il servizio sincronizza ed ecco che se hai un problema al telefono o al computer non hai perso i tuoi ricordi. Poi però i telefoni e il computer si riempiono, lo spazio va liberato e abbiamo le nostre foto solo sul cloud e le cancelliamo dai dispositivi. Siamo tornati ad avere una sola copia delle nostre foto. Come sempre e ripeto da sempre male. I servizi cloud di qualunque fornitore siano non sono da considerare validi come unico repository esattamente come non lo è il disco usb che teniamo nel cassetto. Ma se voi siete ascoltatori del podcast siete già pronti e organizzati da tempo. Avete a casa un NAS, magari un bel Synology con il DSM 7.2 o successivo. DSM è il sistema operativo del NAS Synology e di questo NAS avete già una copia di backup perché le cose si fanno sempre come si deve. Un tempo avreste cercato un modo di sincronizzare tutto il vostro archivio fotografico da pc e da telefono sul NAS manualmente ma adesso Synology ha il prodotto che fa per voi Synology Photos. Dovete avere un NAS Synology dal 2016 in poi circa sulla pagina del prodotto che vi lascio nelle note ci sono tutti i modelli compatibili. Nel NAS dovete avere spazio abbastanza per contenere tutte le foto di cui volete fare backup e consultazione. Ma questo requisito mi pare ovvio. Dovete registrare un account sul sito Synology e inserire il vostro NAS. La registrazione è gratis. Vi serve per pubblicare il NAS ma ci arriviamo tra un attimo. Adesso potete installare e avviare la semplice configurazione di Photos. Ogni utente registrato sul NAS avrà la sua cartella dentro home e potrà accedere all'interfaccia web di Photos che è specifica e non è quella di gestione del NAS come amministratore. E come ci mettiamo le nostre foto dentro? Si installa l'app sul telefono, si configura puntandola al NAS ed ecco che l'app dandole accesso alla libreria del telefono inizierà a fare la replica di tutte le foto sul NAS in modo molto ordinato in cartelle anno e mese. Ma come arriva il telefono al NAS? Bene, io qui le ho provate quasi tutte. La via facile è che configurate QuickConnect tramite i servizi Synology. Il NAS viene esposto su HTTPS con un nome che decidete voi e con un certificato che viene gestito da Synology stesso. Mettete quel nome nell'app e ovunque voi siate l'app provvede a fare il backup delle foto del telefono in tempo reale, ma io sono fissato e avere il NAS esposto mi mette l'ansia. Ho fatto in modo leggermente diverso. Ho configurato la connessione dell'app provandola in due modi ed entrambi funzionano bene. Il primo è via VPN che è per utenti più smart. Ho configurato l'app con l'IP locale di rete del NAS e so che sincronizza le foto in modo automatico quando sono a casa sempre. Se ho bisogno di accedere quando sono fuori, attivo la VPN e ho la connessione senza nessuna difficoltà. Il secondo è con Tailscale. Io adoro Tailscale. Installate e la attivate sul NAS. Prendete il suo IP, configurate e attivate Tailscale sul telefono e fate puntare l'app di Photos all'IP del NAS di Tailscale. Quando questa è attiva sul telefono, ovunque voi siate, la sincronizzazione verrà fatta. Se avete un iPhone, sincronizza senza problemi anche il formato HEIC. Da casa potete aprire l'interfaccia web e caricare le cartelle delle foto fatte con altri dispositivi come macchine foto o action cam, foto e video, magari riorganizzate dopo essere tornati dalle vacanze o dal fine settimana con un semplice drag and drop. Adesso che avete le vostre foto dentro l'app, potete consultarle, cercarle tramite tag, posizione, tipo di fotocamera, data, se ci sono persone o oggetti, potete fare album o slideshow. Potete anche guardarle sulla TV con applicazioni per Apple TV o Android TV. Se attivate il sistema di intelligenza artificiale interno, questo identifica in automatico oggetti e persone. Potete cercare tutte le foto con un gatto o con il mare, per esempio. O tutte le foto con la nonna. Lui trova e raggruppa i volti tutti uguali. Poi voi date loro un nome. Se avete caricato le immagini nel formato Apple HEC, quando le scaricate sul computer potete farlo direttamente in JPG. Lui converte al volo, davvero comodo. Per ogni foto potete vedere tutti i dati EXIF se questi sono stati salvati. Potete aggiungere a mano dei vostri tag, i commenti e una valutazione da 1 a 5 stelle. Se accedete via rete al NAS con la condivisione delle cartelle, nella vostra cartella home ci sono tutte le foto in cartelle ben organizzate, così da essere tranquilli che nessuno ve le gestisca in modo strano, facendo un unico blob o cercando di nascondere l'albero delle cartelle. Stanno tutte lì. Se vi serve una copia di tutte le foto fatte a aprile del 2022, fate la copia di quella cartella e siete sicuri che ci sono tutte. Album e foto possono anche essere condivisi tra persone che hanno l'utenza sul NAS, ad esempio chi vive con voi nella stessa casa o con chi sta fuori se avete condiviso con Quick Connect o se hanno accesso via VPN o nella stessa rete di Tailscale. Potete condividere foto e album anche con utenti che non hanno un account sul NAS. Potete creare album automatici in base a tantissime regole. Diciamo che appena installata l'app ci mettete un po' di immagini, lasciate che il NAS lavori un po' per l'indicitazione e poi avrete di che divertirvi con tutte le possibilità che mano a mano potete scoprire navigando nella facile interfaccia web. Ricordatevi come sempre, come dico tutte le volte fino allo sfinimento, che il NAS non è un sistema di backup perché i dischi sono in ride. Provedete a fare un backup del NAS da qualche parte per avere tutti i vostri dati e le vostre foto al sicuro almeno da un'altra parte. Vedete il grande vantaggio delle foto digitali rispetto a quelle di carta è che si può fare copia molto facilmente. Le fate, le vedete subito, potete farne un backup quasi subito, poi una copia aggiuntiva, potete cercarle per un sacco di singoli parametri, potete darle a qualcun altro senza privarvene e alla fine, se volete, potete anche stamparle alla moda vecchia. Tenendole su un NAS non dovete cederle a nessuno. Grazie a Synology per aver sponsorizzato questa puntata di Pillole di Bit. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb-tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Questo podcast, da sempre, si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice perché anche voi fate parte di questo progetto, ormai da molto tempo. In questa sezione mi prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli, in qualunque modo, per aiutarmi ad andare avanti. Gli abbonati di questa settimana sono Giorgio, Ivan e Carlo. Questa settimana non sono arrivate donazioni spot. Chi usa il value for value per questa settimana sono Federico, Nicola Gabriele e Paolo. Oltre a donare, usando Satispay, Paypal o il value for value, potete anche usare i link sponsorizzati che, a fronte di un vostro ordine, a me riconoscono una percentuale come Amazon o Aweb. Quest'ultimo, ve lo ripeto sempre, io lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. Tutti quelli che si sono abbonati poi mi hanno sempre detto grazie e me ne hanno parlato benissimo. E non dimenticatevi di far conoscere pillole di bit ai curiosi di tecnologia come voi o a chi potrebbe diventarlo. Prima del tip di oggi, un'informazione aggiuntiva. Sono stato ospite di un podcast che ormai dovreste conoscere dall'anno scorso, B Radio con i tre simpatici conduttori con i quali è difficile non ridere mentre hanno i loro altri ospiti particolari. Abbiamo parlato di tecnologia che invecchia, aggiornamenti hardware e etica del rinnovo dei nostri aggeggi che teniamo in tasca o da altre parti. Il link della puntata è nelle note, come sempre. Il loro stile è molto divertente e parlano davvero di qualunque cosa. Vi consiglio di andare ad ascoltare anche le vecchie puntate. Alcuni loro ospiti come Barbero e un certo cuoco a me fanno uscire di senno dal ridere. Il tip di oggi non ha un link perché è molto generico. Ognuno dovrà trovarsi il suo a seconda degli obiettivi e i dispositivi che usa. Con il digitale è possibile simulare filtri di ogni tipo. Tutti quelli che si mettevano prima davanti agli obiettivi possono essere calcolati e applicati digitalmente. Alcuni possono anche essere inventati da zero con i sistemi di intelligenza artificiale. Ma c'è un filtro che per il momento resta inarrivabile sul digitale. Se non lo usate davanti all'obiettivo la foto non potete elaborarla per farla diventare come sarebbe diventata con questo filtro. Il polarizzatore. Detta in parole molto semplici il polarizzatore quando viene messo davanti alla lente si può girare ed è in grado di eliminare determinati tipi di luce in arrivo al sensore. Tipicamente la luce che viene riflessa da qualche parte. Mettete il polarizzatore mentre fotografate una una vetrina un parabrezza uno specchio d'acqua ed ecco che non vedrete più il riflesso ma quello che c'è dietro come se il vetro o l'acqua quasi non ci fosse. Cercatene uno e davvero vi assicuro provatelo e non ve ne pentirete. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco produttore e voce di questo podcast e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata disponibile sul feed rss o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Piccola nota finale se avete bisogno di supporto per i vostri fantastici NAS Synology possiamo parlarne nel gruppo telegram ma è sempre meglio passare dal supporto ufficiale che ne sanno sicuramente molto più di grazie per avermi ascoltato e grazie a Synology per aver sponsorizzato questa puntata di Pillole di Bit. Ciao e alla prossima puntata